Per chi fa sport, per chi fa sport di gruppo, credo che sia abbastanza normale che comunque l'energia, la positività, lo spirito aumenta con le prestazioni e soprattutto con i risultati positivi e che può calare invece con delle prestazioni negative e i risultati negativi come sono state le nostre ultime partite, quindi si recupera lavorando e si recupera vincendo le partite. Adesso c'è solo una cosa da fare, giocare bene, giocare male. Io parto sempre dall'idea che più giochi bene, più possibilità di vittoria, ma in questo momento noi ne possiamo uscire tramite dei risultati positivi e dipende da noi sicuramente più che dai nostri avversari. Nessuno deve pensare che i giocatori non vogliono superare questo momento o che non ci mettono al 100% per fare meglio. Ho sempre visto nei miei giocatori grande attenzione, grande volontà e grande voglia di poter superare questo momento. Questo momento si supera lavorando, come abbiamo sempre fatto, nel senso che abbiamo sempre creduto tanto nel nostro lavoro, nelle nostre idee, nel nostro modo di giocare. Dobbiamo portarlo avanti, sapendo che chiaramente sappiamo fare molto meglio di quello che stiamo facendo, ma che conta solamente la partita di domani. Da questi momenti si viene fuori anche con partite sporche, anche con partite caratteriali, ma con dei risultati positivi e poi ricrescerà la fiducia, ricrescerà lo spirito, ricrescerà l'autostima e torneremo a essere brillanti e anche belli come lo siamo stati. In questo momento secondo me dobbiamo essere squadra concreta. Credo che i tifosi non abbiano bisogno di un mio messaggio, ma che abbiano bisogno di vedere. I tifosi sono veramente dei giudici molto obiettivi, hanno bisogno di vedere, hanno bisogno di constatare quello che sono le nostre qualità, quello che è il nostro modo di giocare. Quindi noi cercheremo di soddisfare le loro attenzioni, il loro sostegno, garantendo il nostro massimo impegno, garantendo la nostra massima potenzialità. messaggi, le parole. È bella la conferenza stampa di oggi, ma tanto conta solo domani. Tutto quello che dico oggi sarà riconducibile al risultato di domani. Quindi quello che conta è fare bene domani, ci siamo preparati e quindi domani sicuramente daremo il massimo per ottenere la vittoria. Grazie a tutti.